Musica Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Il 13 ottobre scorso Papa Francesco ha proclamato 5 nuovi santi, tra cui 4 donne insieme al Cardinale Newman e una di queste 4 donne era una fondatrice, la fondatrice delle Figlie di San Camillo, una congregazione religiosa che si ispira all'ideale di San Camillo, è il ramo femminile della congregazione fondata da San Camillo. E ci sono diversi punti in comune fra questa nuova santa e Padre Pio. Tutti conoscete già il grande legame che c'è stato almeno a livello logistico fra San Camillo e Padre Pio e quanta devozione aveva Padre Pio nei confronti di San Camillo. Tanto da dire la famosa frase, San Camillo ha dormito una notte in questa cella, la numero 5 del convento di San Giovanni Rotondo e si è fatto santo. Io sono tanti anni che dormo qui e ancora non riesco a farmi santo. Gesto di grande umiltà da parte di Padre Pio ma anche affermazione di devozione nei confronti di questo santo che aveva una grande attenzione verso gli ammalati. Ebbene anche madre Giuseppina Vannini, la neosanta, la fondatrice delle figlie di San Camillo, ha voluto realizzare delle opere per l'assistenza agli infermi, per il sollievo degli infermi. Ora per parlare di questa santa che come abbiamo visto ha molti punti in comune con Padre Pio, abbiamo con noi in studio la postulatrice delle figlie di San Camillo, madre Benedetta Rossoni e poi fra Carlo Mangione che è il responsabile dell'ufficio stampa della struttura che si è occupata della canonizzazione. Benvenuti fra noi. Grazie. Madre Benedetta, allora ci vuole in sintesi raccontare meglio di quanto ho potuto fare io in maniera molto sintetica chi è stata madre Vannini? Madre Vannini è stata una donna grande per quello santa. È nata a Roma nel 7 luglio 1859. Quindi nello stesso secolo di Padre Pio? Nello stesso secolo di Padre Pio, sì. È vissuta anche a Roma ed è morta a Roma nel 1911, solo che ha avuto una vita veramente sofferta perché all'età di sette anni era già orfana da entrambi i genitori. Ed è stata affidata all'orfanatrofio Torlonia a Roma che era curato dalle figlie della carità. Erano in tre fratellini però sono stati separati, divisi. Madre Vannini è cresciuta con le suore. All'età di 14 anni ha ricevuto la prima eucaristia e ha sentito nel cuore la vocazione, il desiderio di consacrarsi a Dio. Ha coltivato nel suo cuore e all'età di 21 anni ha chiesto di entrare per diventare pure lei una figlia della carità. È stata messa ma subito dopo, 45 giorni precisamente, è stata dimessa per motivi di salute, per motivi non chiari. Poi è stata riamessa e però è entrata e uscita diverse volte e a 32 anni definitivamente dimessa. E questa giovane però aveva nel cuore il desiderio di servire Dio e non ha mai abbandonato questo desiderio. Nonché la provvidenza le fa incontrare un altro santo sacerdote, Camigliano, oggi beato padre Luigi Tezza, durante un corso di esercizi spirituali. Il Tezza già aveva nel cuore questo progetto di fondare un istituto femminile ed era stato pure formalizzato perché la consulta generale l'aveva proprio affidato questo incarico. E il Tezza nel ascoltare la confessione, la confidenza di questa giovane, sente l'ispirazione, dice ecco non sarà questa la giovane cui vai cercando per collaborare nella fondazione e espone alla Vanini il suo progetto. Lei molto saggiamente dice da alcuni giorni si fa consigliare dal suo direttore spirituale, da una figlia della carità che la conosceva bene e dopo due giorni si presenta a Altezza e dice eccomi sono pronta a realizzare questo progetto. e quindi con padre Luigi Tezza avvia il 2 febbraio, il giorno della conversione di San Camillo, 1892, l'istituto delle figlie di San Camillo. Lo guiderà per 18 anni e nel 1911 muore a Roma lasciando una grande scia di carità perché la sua missione, il suo carisma era lo stesso di San Camillo, quello di dare sollievo ai sofferenti, accudire i sofferenti, ma con un cuore materno, come aveva chiesto Camillo quando ha fondato i ministri degli infermi, chiedeva ai suoi religiosi di chiedere a Dio la grazia di un cuore materno, di curare gli ammalati come una madre cura il suo unico figlio infermo. Quanto è vasta questa scia di carità di cui parlava? Cioè in quanti posti, in quanti paesi siete presenti come figlie di San Camillo? Oggi siamo presenti in 23 paesi dei 4 continenti e siamo circa 800 religiose. Portiamo appunto le ultime fondazioni, le recentissime sono Cuba, Paraguay e Nel Malì in Africa. Parliamo del miracolo che ha consentito a Madre Vannini di essere canonizzata, un miracolo che avete atteso per un bel po' perché dalla beatificazione alla canonizzazione sono passati diversi anni. Ecco, ci vuole raccontare come è avvenuto e chi ha beneficiato di questo miracolo per intercessione di Madre Vannini? Sì, il miracolo è avvenuto nel 2007, la canonizzazione è avvenuta 25 anni dopo la beatificazione ed è successo nel Brasile, nel mio paese, nello stato del Matto Grosso, dove le nostre suore erano presenti da diversi anni perché erano presenti dal 1981 e lì avevano una casa, una comunità, però non un'opera propria, per cui facevano assistenza a domicilio, lavoravano negli ospedali, nella parrocchia con la pastorale della salute e allora sono stati i propri cittadini di questo luogo che hanno detto dobbiamo costruire qualcosa per le suore ed iniziano a raccolere i fondi per costruire una casa di riposo perché noi ci dedichiamo anche alla cura degli anziani per le suore e durante la costruzione di questo edificio un operaio che poi questa casa di riposo avrebbe portato e porta oggi il nome di Madre Giuseppina Vannini e un operaio è precipitato del livello del terzo piano circa 11 metri e avendo nel cuore questa devozione per Madre Vannini perché le suore inculcavano tanto questa devozione lui ha invocato per un attimo, invocato Madre mia aiutami ed ha fatto un volo di circa 11 metri non ha riportato alcun danno alcun danno tranne un taglio nel labbro che è una cosa proprio piccola piccola nessuna frattura, nulla 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 e cosa c'era sotto dove è atterrato diciamo da 11 metri di altezza? lui è precipitato nel vano dell'ascensore per cui c'era giù, era questo pozzo dell'ascensore una altezza di circa un metro e mezzo di profondità dalla terra e lì c'era di tutto perché è una costruzione che era iniziata nel 2004 siamo già nel 2007 e tutti i rifiuti che c'erano li gettavano dentro ferro, pezzi di legno tutto quello che c'era di immondizia gettavano dentro e più ancora quando lui precipita porta con sé una parete di circa un metro e mezzo di altezza di mattoni che era da poco stata alzata quindi con il lavoro che stava facendo doveva mettere delle tavole però questa tavola che lui aveva in mano poi ha fatto da leva e ha fatto precipitare tutto addosso a lui quindi ha trascinato con sé quello che trovava durante la caduta Fratel Carlo, questo miracolo avvenuto mentre un operaio costruiva una residenza per gli anziani nell'ottica di Madre Vannini di portare sollievo alle anziani che è un'ottica che sembra andare controcorrente rispetto alla cultura dominante di oggi la cultura dello scarto la cultura che vede coloro che non servono coloro che soffrono come persone da non far soffrire o persone che non devono farci soffrire allora da uomo di comunicazione che messaggio possiamo trarre da questo miracolo perché il miracolo è tale se parla e parla il linguaggio della fede chiaro, è chiaro che il miracolo è sempre un'opera di Dio che interviene attraverso i santi è molto bello questa attenzione ai poveri alle persone escluse possiamo dire che c'è un filo rosso conduttore perché se noi pensiamo la vita di San Camillo ecco nel 1600 non è stato altro che un riportare i poveri i malati al centro se pensiamo a tutta l'opera di Padre Pio se pensiamo a quello che Madre Giuseppina ha fatto allora la sfida anche che Papa Francesco un po' ci consegna è quello di far sì che la Chiesa possa dare voce a chi non ha voce e la malattia la possiamo considerare il momento più grande di povertà dell'uomo perché quando viene a mancare la salute non c'è nessuna ricchezza che guaglia la salute allora ecco questo miracolo ci dice proprio un'attenzione particolare ai poveri un'attenzione particolare un amore di predilezione a me piace molto ho scoperto anch'io in maniera più significativa la figura di Madre Vannini che incarna proprio al femminile quello che San Camillo diceva mi è piaciuto quello che ha detto all'inizio riguardo un po' il parallelo e similitudine tra Padre Pio e San Camillo c'è un'altra cosa molto significativa che è la data di nascita sia San Camillo che Padre Pio nascono il 25 maggio anche questo è molto bello e poi la sofferenza che accompagna tutti e tre sia Padre Pio lo sappiamo bene San Camillo per dire per due volte ha tentato di realizzare il suo desiderio di consagrazione dei cappuccini è stato mandato via Madre Vannini per due volte cerca di realizzare il suo desiderio di consagrazione tra le figlie della carità e viene mandata via e tutto questo ci dice che c'è una sofferenza feconda c'è una sofferenza che dice qualche cosa ecco un po' come Gesù dice nel Vangelo se il chicco di grano non muore non marcisce non porta frutto la vita di Madre Vannini è stata una vita proprio imperniata di sofferenza l'altro giorno ho fatto un incontro a un gruppo di giovani e mi è venuta questa definizione dicendo che Madre Vannini è esperta nel soffrire un po' come la famiglia di Nazareth quando si dice esperta nel soffrire però la cosa importante è che proprio perché ha sofferto ha potuto capire e comprendere la sofferenza degli altri allora questo bagno di sofferenza non è qualcosa di negativo di masochista qualcosa che ci intristisce ma è invece qualcosa che ci porta a dare vita a dare salute a dare consolazione ecco oggi il mondo della sofferenza sicuramente è un mondo da attenzionare perché ci sono diversi rischi nel mondo della sanità il profit il guardare la malattia e non il malato nella sua globalità ma tutti i rischi che c'erano già anche ai tempi di San Gamillo a me colpisce come San Gamillo ha rivoluzionato il mondo della sanità del suo tempo perché quando un malato arrivava nell'ospedale prima di essere curato e assistito doveva ricevere tutti i sacramenti se no non poteva ricevere l'assistenza ecco San Gamillo rivoluziona e mette al centro ecco la persona ecco San Gamillo Padre Pio Madre Vannini non hanno fatto altro che prendere la persona e mettere al centro e per loro la persona del malato è stata sempre l'immagine di Gesù Cristo e credo che questo è un grande messaggio ma anche una grande provocazione perché oggi c'è un po' la cultura del sano, del bello del voler essere efficiente a tutti i costi queste figure ci ricordano che la vita è dono sempre che la vita è qualcosa di bello anche quando il nostro corpo viene trasfigurato ecco dagli acciacchi dalla malattia dalle rughe allora credo che siamo chiamati ad accogliere questo messaggio che è un messaggio di grande speranza perché ognuno ha diritto a vivere la vita in pienezza ecco fin quando il Signore ci lascia su questa terra e ora ascoltiamo alcune parole pronunciate da Papa Francesco durante l'Omelia che si riferiscono anche a Madre Vannini sentiamo possiamo domandarci noi che abbiamo fede viviamo le giornate come un peso da subire o come una lode da offrire rimaniamo centrati su noi stessi in attesa di chiedere la prossima grazia o troviamo la nostra gioia nel rendere grazie quando ringraziamo il Padre si commuove e riversa su di noi lo Spirito Santo ringraziare non è questione di cortesia di galateo è questione di fede un cuore che ringrazia rimane giovane dire grazie Signore al risveglio durante la giornata prima di coricarsi è l'antidoto ascoltate bene dire grazie è l'antidoto all'invecchiamento del cuore perché il cuore si invecchia e si abitua male così anche in famiglia traspossi ricordati ricordarsi di dire grazie grazie è la parola più semplice e benefica invocare camminare ringraziare oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori tre di loro sono suori e ci mostrano che la vita religiosa è un cammino di amore nelle periferie esistenziali del mondo chiediamo di essere così luci gentili tra le oscurità del mondo Gesù resta con noi e noi cominceremo a brillare come tu brilli a brillare in modo da essere una luce per gli altri è significativo come dicevamo prima che anche Papa Francesco abbia messo in evidenza il ruolo che queste sante e quindi tra queste anche Santa Giuseppina Vannini hanno avuto nel prestare attenzione alle necessità degli ultimi ma un'altra domanda che vorrevo fare a fraccarlo come mai è stato necessario così tanto tempo così tanti secoli per avere una congregazione femminile che affiancasse quella maschile lungo gli ideali di San Camillo diciamo che c'era anche un ordinamento giuridico che non permetteva alle donne di vivere una vita religiosa attiva fino al 1800 la consagrazione femminile era concepita solo a livello monastico quindi nei monasteri solo le suore vincenziane San Vincenzo ha avuto un po' un escamotage ha fatto fare dei voti privati li faceva vestire un po' come le contadine del tempo e di fatto erano religiose ma non si sapeva non si capiva che erano religiose e quindi nell'800 c'è stato il grande fiorire degli istituti religiosi mi piace ricordare una cosa perché Madre Vannini è la prima santa dopo San Camillo quindi dopo tre secoli la grande famiglia di San Camillo gioisce di questo ed è la prima santa romana della sanità sono perché Santa Giuseppina è nata vissuta e morta a Roma e quindi l'altra caratteristica è che dopo Santa Francesca romana che è stata canonizzata 411 anni fa è la prima donna dopo quattro secoli ed è bello questo connubio perché San Camillo non è nato a Roma è nato in Abruzzo ma ha vissuto 40 anni a Roma madre Vannini tutta la sua vita a Roma e potrebbe sembrare quasi qualcosa di circoscritto a una città ma noi sappiamo che Roma è la sede della cattolicità quindi della universalità allora questi santi non sono santi di Roma per Roma ma sono santi che sono vissuti a Roma lo Spirito Santo li ha suscitati in un determinato luogo ma sono chiamati ad essere faro per tutta la Chiesa e per tutto il mondo madre Bernardette madre Vannini Santa Giuseppina Vannini è vissuta sempre a Roma abbiamo ascoltato poc'anzi però la prima casa non è nata a Roma sì la fondazione è iniziata a Roma e poi anche è trovata delle difficoltà però la prima casa fuori Roma è fondata a Cremona nell'anno successivo perché nel 1892 nasce a Roma nel 1893 a Cremona e 1894 anche in Puglia nella città di Mesagni per cui quest'anno stiamo festeggiando il 125 anni di fondazione delle fili di San Camillo a Mesagni c'è una presenza centenaria come sceglieva allora madre Vannini i luoghi dove far nascere le case erano le esigenze del posto a parlare a chiamarla normalmente le fondazioni venivano sollecitate perché all'inizio a Roma le figlie di San Camillo hanno fatto un gran clamore perché subito i giornali ne hanno parlato la voce è passata di bocca in bocca anche perché queste donne servivano gli ammalati a domicilio con un grande spirito di carità di sacrificio di mortificazione come era proprio del tempo ma con un grande amore e questa carità subito si è diffusa la prima in Cremona c'erano anche i padri camigliani a cui siamo stati sempre molto legati a Mesagni invece è stata una sollecitazione proprio di qualcuno della città che ha chiesto alle suore di essere presente a Mesagni e così anche le diverse fondazioni normalmente erano delle chiamate delle sollecitazioni che venivano volentieri assecondate perché si sono moltiplicati subito quindi se volessimo concludere con un messaggio fratello Carlo di Madre Vannini per l'umanità di oggi il messaggio è il messaggio di Camillo Madre Vannini prende tutta la spiritualità di Camillo e prende anche il quarto voto noi sappiamo che i religiosi fanno tre voti povertà cassità obbedienza ecco San Camillo ha voluto il quarto voto che assistenza agli ammalati anche col rischio della vita Madre Giuseppina Vannini vuole per se stessa e per tutte le sue figlie anche il quarto voto allora il messaggio che Madre Giuseppina ci dà è di questa donazione totale fino al dono di sé che può essere anche con il dono della vita e il quarto voto si fonda proprio su Gesù ecco che sulla croce dà la vita per ognuno di noi e con questo messaggio non possiamo che concludere questa trasmissione consegnandolo a voi amici telespettatori ringraziando Madre Bernardetta e Fratello Carlo per averci aiutato a scoprire una santa che può diventare modello anche per gli uomini di oggi